In questo video vi facciamo vedere come rifinire la vostra opera con Art Resin. Dopo il livellamento di Art Resin inizieranno a salire in superficie delle bolle d'aria. Consigliamo di utilizzare il nostro cannello Artistorch per eliminare le bolle e ottenere un risultato perfetto. Basta tenere il cannello a pochi centimetri dalla superficie tenendolo costantemente in movimento più o meno come se steste stirando un panno. Rimuovete eventuali peli o particelle di polvere con uno stuzzicadenti, poi coprite l'opera con lo scatolone. Ora siate pronti per il sesto passo.